I carabinieri della stazione di Napoli Scampi hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere messa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli, distrazione di distrettuali antimafia nei confronti di due napoletani di 39 e 25 anni, Marino Leopoldo e Pandolfi Carmine, ritenuti gravemente indiziati di estorsione e lesioni aggravate dal metodo gamorristico. Secondo quanto ricostruito dalle indagini dirette dalla distrazione distrettuale antimafia, i due uomini nel mese di luglio del 2021 si presentarono più volte presso l'abitazione di un 27enne, allora sottoposto agli arresti domiciliari a Scampia, minacciandolo con il pretesto di ottenere la restituzione di un presunto debito contratto tempo prima, ma in realtà per costringere lui e la madre conviventi a lasciare l'abitazione, ovvero le due vittime risiedevano quali legittimi assegnatari. Tra gli episodi estorsivi documentati durante l'ultimo dei quali le vittime furono costrette a consegnare agli indagati le chiavi dell'appartamento e da liberarlo seduta stante. Il provvedimento è stato notificato in carcere per Marino Leopoldo, già detenuto a poggio orale per altra causa, mentre Pandolfi Carmine è stato tratto in arresto e condotto presso il centro penitenziario di Secondigliano.